He lost my car Della Shotaro che l'ultima volta non mi piacevano più di tanto Però devo essere sincero Non lo so se sono carini Ho fatto bianco e verde e benzina Si dovrebbe chiamare Andiamo raga Prima posizione veramente Raga io non so se sto andando bene Paleoliche troll Paleoliche troll raga E dobbiamo fare attenzione Via Ce ne stanno altre Dove 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 di qua Si E raga vado un po' piano perchè non so dove stanno queste paleoliche Guardati Aspettate Dai sali sui Sali sui Sali sui Sali sui Sali 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 Mamma mia che manovre del suino raga Andiamo Ok E ora E' un avanti indietro Non lo so perchè la gente fa l'equilibrio No 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 E' giusto E' giusto Asui Asui va un po' di attenzione Ah raga qua non si passa eh Suini non si passa da qua Noi proseguiamo va Dai sui Solo perchè sono un bravo suino eh Vai 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 sui Allora io faccio l'addetto al traffico eh Allora sui Vai avanti E via libera Dai e Veloci Dai e frenzi Guarda che killer che già si vuole andare a fregare la prima posizione Eh raga non posso fare l'addetto al traffico eh Io devo andare avanti E mi dispiace tanto Ok Allora Andiamo Raga ricordiamoci che la shotaro non è una body eh Quindi è bella grossa Paleolica troll Aspettate che devo capire dove sta Ok Allora Adesso Adesso dobbiamo fare un po' di attenzione Via 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 Andiamo Ah Stanno un paleolica raga No Allora Allora qui che devo impennare No 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 Che è che è che è che è successo raga Oh mio dio Aspettiamo Raga che qua Un po' rischiosos eh Via 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 Ok Ok E' qui Oh mio dio che strada Eeeh Aspettate eh Non ci capisco niente Raga come faccio a andare di là Senti tutti eh Ok Perfetto raga Mio dio Perché non so se cascavo Sinceramente eh Non lo so Sono stato un po' lento però Non riuscivo a capire vi giuro Eeeh Nella parte sbagliata Ah no 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 Praticamente qua Eh sui ci dobbiamo buttare giù Da qui Poi mi devo rigirare E andare qua sopra Sali 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 Toglia così Qua cos'è Veloci No 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 Scherzavo Allora Per ora siamo primi eh Quella parte vi giuro Non ci ho capito più niente eh Eeeh Ok Di qua Poi Di qua Ok E Poi Di qua E ora Ancora raga Quanti sono Perfetto Mio dio se sto quasi a buggare Qui Credo di si Andiamo Già quattro minuti sono passati Ok No 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 Ho scaricato un gp Favoloso eh Aspettate eh Vedete Si è tipo incastrata Ok Che arena questa parte Andiamo Andiamo per Di qua Ok Oh mio dio Stavo perdendo quasi il controllo E qua Qua Sembrerebbe Tranquillo Bella pure questa parte Aspettate eh Che ora andiamo subito Il check sta lì Quindi noi possiamo andare Tranquillamente avanti Andiamo Ha messo tutto in crocio qua I freni Bellissimo Adesso Dobbiamo salire qua sopra Gli altri stanno ancora giù Però noi ci andiamo a prendere questa bella prima posizione E' bella questa chiara eh Una bella carerita Andiamo E ora Sembra lunga questa chiara eh Non lo so quanto dura Però noi proseguiamo Via 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 E la miseria che è scommata Avete visto Ha fatto E lì che è E' un wallride Vedo delle panchine Vediamo un po' cos'è No proprio wallride no Però Si può dire che qua c'è un wallride Carino Veramente Bello Ok Qua cos'è? Sto andando bene Perché ho visto un'altra via là No 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 Tutto ok E qua Si sale così? Sali Ok Sali anche Qua No regà dove sto? Dove sto? Non ci posso credere Com'è cascato qua il suino? Oh vedete regà Avevo saltato un check Allora Avevo saltato il check point Regà vedete Meno male che sto a cascata allora Andiamo un attimo di qua Dove ho saltato il check Dove era? Era tipo qua Aspettate eh Vai 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 Veloce 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 Era qui E io non ho visto questa parte qua regà Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Praticamente io sono andato dritto Però è strano questo check qua eh Veramente strano Oppure era doppio check point Non mi chiedete nulla So solo che mi devo sbrigare Perché se no mi recuperano Ok Eccoci qua al wallride Vai vai Ah guardati Guarda il check Dove stava Guardati io Meno male Adesso possiamo andare tranquilli Vedo già il traguardo regà Quindi Tra poco finirà questa bella Caritta Sali Perfetto No 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 regà Una cosa che non devo fare è rimbalzo Cioè non posso andare a 2000 qua Bisogna andare Tranquilli O è la shotaro che è un po' strana Forse con la batte si può andare pure più veloce Ok Andiamo 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 E ora E ora Eeeh E mo E mo su cavoli Ok Mazzata qua si vede tutta la bella garetta eh Dai sui Regà un attimo di concentrazione qua eh Ok Vai 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 Andiamo belli rapidi regà Belli rapidi Tra quanto finisce Non lo so Forse è quasi Quasi finito eh Sì Eccolo qua al punto Perfetto Qui abbiamo il check E lì c'è il traguardo Perché tutto questo turbo Non lo so Prendiamo il turbo E andiamoci a prendere questa bella prima posizione Ok Nuovo GP Questo regà è un GP della Mercedes E l'ho trovato nel social club Deve essere favoloso C'è anche nella miniatura il simboletto Cioè nella miniatura avevo visto il simboletto E ho messo mascol So che avrei dovuto farlo con una macchina simile alla Mercedes Solo che Meglio farle con le mascol Oh lei regà e ho cambiato pure il colorito alla Duke Grande sui Però Non sono soddisfatto regà sinceramente eh Tipo il Wagner mi piace con quel colore Ma Aspettate un attimo regà Qua stiamo a fare una bella curvettina E parlare di coloriti Eccolo qua regà il simboletto della Mercedes Bellissimo Stavo a dire Se non vi piace consigliatemi voi qualche colore eh Oh frena 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 Ok Ho messo tre giri eh Vediamo un po' se verrà fuori una bella carierita Ok Per adesso è intuitivo eh Veramente un bel GP eh Veramente molto bello Ok Bella questa discesa regà Qua dobbiamo frenare No Questo è bellissimo Credo che sia bellissimo anche con le auto super eh Si gioca da dio anche con le mascol Ah ma vedi Bello 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 Andiamo Di qua Ok Bisogna guardare bene anche i checkpoint eh Adesso per di qua Perfetto C'ho qualcuno proprio dietro di me eh Chi è? Chi è? Vincible Mannaggia te i suoi Motetrollo eh Allora qua ci stanno due check eh Eeeh Tutto ok Tutto ok Bisogna andare dritti Perfetto E qua inizia il secondo giro? Credo di si Perfetto Andiamo Andiamo più veloci Che possiamo Allora Facciamo così Questo giro lo facciamo Senza girare la visuale Qua ho frenato a caso Totalmente a caso eh E qui salto il check Totalmente a caso No regà Usiamo sta visuale Perché se no non ci vedo niente Non mi ricordo niente Mannaggia me Dai la cara si fa più interessante eh Eccolo qua il simboletto Andiamo andiamo Devo usare per forza sta visuale Che vedo tutto dall'alto Perché Se no non so proprio com'è il GP Ok Gira 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 Veloce che sto qui Sto qui vincibile Meno male che ho messo tre giri eh Dai dai veloce 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 Non dobbiamo sgommare per niente eh Ok Cori corri 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 che sta lì Sta lì regà Si è trollato? No Però sta sempre qua eh Mannaggia quel checkpoint che abbiamo saltato Dai veloci veloci che siamo andati abbastanza veloci qua eh Sto qui Sui no Dai 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 Ok Adesso per di qua Corri Corri Guardate quanto corre raga Mannaggia lui E qua non mi sono trollato eh Allora bisogna essere più concentrati Qua è un bel curvone al massimo comunque eh Non bisogna neanche lasciare l'acceleratore Ma se vede che non lo so Perché adesso potrebbero arrivare anche i troll Quindi non lo so se potrebbe Essere una bella prima posizione questa eh Ok Andiamo veloci Qua freniamo Oh io ho sgommato la macchina arzuino eh Ok 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 Corri 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 Ha preso pure il check Perfetto Allora qua facciamo un po' di car boosting Andiamo sul cordolo Per andare un pochino più veloce Ah è vero abbiamo pure la scia eh Eh sui scusami ma era la scia eh No sui mo te trollo proprio Aspettate eh Carerita competitiva Convincibile No sui che mi convini Hai fatto una carerita tutta perfetta E poi te trollo No 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 Troll no eh Per favore Troll no Ok ok Corri 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 Che la prima posizione è d'arsuino raga Qua bisognava rallentare Sì Comunque è bellissimo questo GP eh Veramente molto bello Però non riesco a giocarlo con la telecamera Che non si muove Solo se si muove riesco a giocarlo per adesso Praticamente la telecamera normale è questa raga Quando voi non girate state così Oh facciamo l'ultima curvetta così eh Senza muovere la visuale Allora qua si poteva andare abbastanza veloce Diamo solo un colpetto di freno Sì sì si può andare ancora più veloci comunque È finita la carerita E vanno i posti di blocco Ma io vinco lo stesso Comunque sia Se vi è piaciuta la gara parkour Lasciate un bel gp della mercedes Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale Su Instagram Saluti Questi suoi Iniziali 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 Grazie per la visione!